Ciao a tutti ragazzi e bentornati al nostro appuntamento con il TG Eventi di Urban Week. Questa settimana cominciamo il 22 novembre con Siké al Club 29 di San Giovanni La Punta in provincia di Catania. Il 23 novembre invece vede Strike Live al Melody Pub di Siracusa. Il 24 novembre invece abbiamo Brass in Jazz al Teatro Santa Cecilia di Palermo. Il 25 novembre va in scena l'opera Carmen al Teatro Massimo Bellini di Catania. Il 26 novembre va in scena l'opera Aida e Servita al Museo Antonio Pasqualino di Palermo. E concludiamo il 27 novembre con l'opera Il Maestro e Margherita al Teatro Stabile di Catania. Se volete pubblicizzare il vostro evento scriveteci sulla pagina facebook urbanweek.it. Ciao! 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 Grazie a tutti.